Salve, lei è qui per vaccinarsi? Penso proprio di sì. Rientra negli assistenti? Certo, certo. Valleggi 104. Siete in tantissimi, non ci si aspettava tanta gente. Penso di sì. Prima ce n'erano ancora di più, c'erano molte persone. Una Pasquetta per il vaccino? Sì, perché è la cosa giusta, ci dobbiamo vaccinare tutti, quindi è giusto che anche in questi giorni di festa, se c'è la possibilità di farlo, che lo facciamo. AstraZeneca fa paura oppure no? No, sì, io mi fido della sanità, mi fido di quello che fanno e quindi mi faccio il vaccino, sì. Siete in fila da molto tempo? Sì, da un'oretta, da un'oretta. Un'oretta? Ah, e vi hanno detto che c'è da aspettare ancora molto oppure? Eh, penso di sì. Cioè, ci sono più di 300 persone, dicono, prima di me, quindi penso qualche altra oretta. E il vaccino vi fa paura oppure no? Siete contenti di farlo? Beh sì, comunque è una questione di morale, no? Anche ci siamo cittadini italiani ed è giusto farlo per, insomma, per andare avanti, per respirare un pochino di più.